buongiorno buongiorno a tutti ragazzi buon buon 7 agosto tanti in ferie però io vedo ancora traffico secondo me la maggior parte deve ancora partire partirà la settimana prossima buongiorno chi è in ferie già chi sta lavorando come me buongiorno a tutti allora un video dopo tre settimane circa dall'ultimo postato nel mio canale vedete che io di video non ne faccio molti perché a me piace interloquire direttamente con le persone quindi preferisco le 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 dirette no però questo video mi sento di farlo in realtà ne avevo fatto uno ieri tornando mi sono dimenticato di caricarlo pensate un po voi come sto messo allora io volevo innanzitutto ringraziare questo questo weekend si volevo ringraziare il weekend appena trascorso perché perché mi ha fatto capire che ulteriormente diciamo mi ha aumentato mi ha arricchito la consapevolezza del fatto che questa questa juvengers crew conosciuta tramite questa piattaforma youtube mi sta regalando delle delle amicizie che veramente mi rendono contento felice mi rendono una persona orgogliosa cosa anche del percorso insomma fatto no indipendentemente dal non sto parlando del canale del report delle visual non me ne frega un cazzo sto parlando delle persone che ho conosciuto durante questo percorso di quattro anni e mezzo allora gianni lo sapete il rapporto che c'ho io che c'ho io con gianni che va è un'amicizia è una parola che io uso poco voi sapete però in questo caso la uso perché lo reputo un amico fidato vero sincero un amico che va oltre no quello che è magari la semplice conoscenza gianni è la persona con cui ho un rapporto particolare da tempo quindi è normale non me ne vogliono gli altri lo capiranno ovviamente però con lui c'è un canale diciamo un po più un po più un po più legato no però vedete anche con gli altri della juventus crew che più o meno li ho conosciuti tutti di persona chi magari più chi meno si è instaurato questo rapporto di amicizia oltre al semplice al semplice live semplice video semplicemente videocamera che va anche fuori nella vita di tutti i giorni che ognuno di noi ha e ieri ho avuto la prova che anche con frank asso per esempio che ringrazia ancora caldamente perché innanzitutto apro e chiudo parentesi il gelato che produce lui è di una bontà estrema e io voi sapete che su queste cose qua sono molto preciso no sul cibo sta roba qua io ieri il gelato che ho mangiato da asso penso di non averlo mangiato qua delle mie parti morbido delicato gustoso non pesante un gelato stupendo cazzo quindi complimenti a frank asso per il gelato che fai è una bontà porca puttana una bontà bravo poi ovviamente lui stava lavorando anche se era domenica era lì che produceva non è che si è potuto fermare più di tanto con noi però quel quello che è bastato insomma 15 minuti un quarto d'ora vedete queste cose qua secondo me sono bellissime un gruppo una compagnia di amici io mi sono fatto praticamente io avevo promesso ad asso che sarei andato a trovarlo in gelateria ho colto l'occasione di questo weekend che poi io sabato era gardaland ho fatto la strada poi che sono andato da gianni grazie anche gianni ovviamente inutile che lo ribadisco per l'ospitalità gianni lanati e ieri mattina avevo premesso ad asso che sarei andato a trovarlo in gelateria e ci sono andato c'era che pandorino c'era alessandro bianco c'era mia figlia ovviamente siamo stati lì e abbiamo fatto quattro chiacchiere è bello secondo me a prescindere dai chilometri forse la distanza si rompe un po' le palle ma è bello quello che si è creato l'armonia che si è creata in questa crew è bellissima a me piace questo il vero senso cazzo io lo reputo così questo il vero senso di conoscere persone youtube si ti fa conoscere persone di merda anche in un percorso ci sta perché fa parte del della linea naturale degli eventi però basta saper cogliere quello che è di quello che c'è di buono e questo per secondo me è molto 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 buono e sono contento cazzo di aver conosciuto persone così poi anche gli altri che abbiamo conosciuto ovviamente durante il pranzo io non li nomino tutti sto parlando della juventus crew però potrei nominarne altre altre 4 5 6 7 adesso non mi ricordo ripeto non vorrei fare un torto a nessuno ci mancherebbe altro con chi si è instaurato un rapporto un po più particolare ecco mettiamola così con nadir magari con alessio quelli che ci troviamo fuori spesso no anche al pranzo quindi che fanno oltre alla crew no oltre alla crew poi ho conosciuto tante persone nuove quest'anno al pranzo che abitano qua anche qua vicino a me claudio valerio insomma tutti 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 quelli che fanno parte di questa grande famiglia io adesso sto parlando della crew no quindi ripeto non me ne vogliano gli altri che non nomino tutti quelli che sto parlando della crew ma marco 99 matteo matteo che matteo figlio mio io ti devo conoscere anche di persona perché fa parte del rito no poi tutti tutti gli altri insomma che fanno parte del nostro gruppo ripeto siamo in tanti una bella famiglia sta crescendo anno dopo anno e a me piace a me piace io non vedo l'ora di conoscere anche quelli che non ho ancora conosciuto di persona vabbè tutti i moderatori tipo vabbè Omar che ci siamo già conosciuti tante volte insomma visti tante volte vorrò conoscervi tutti a uno a uno perché secondo me questa è la base vera e il senso vero di questa diciamo magnifico di questo magnifico libro che abbiamo messo in piedi e che si sta diciamo e sta aumentando le pagine anno dopo anno di storie di conoscenze ed è bellissimo quindi io vi ringrazio tutti indistintamente chi non ha nominato non si sente escluso perché fa parte della famiglia che c'è una memoria di merda i primi nomi che mi sono venuti in mente insomma ecco qua quindi weekend appena trascorso bellissimo grazie ancora frank dell'ospitalità grazie del gelato offerto quindi frank ha offerto pure il gelato a tutti grande frank c'è anche pandorino quindi sicuramente ne avrà rimesso un mese e mezzo dello stipendio sto scherzando no grazie grazie a tutti grazie veramente di cuore grazie per quello che mi date e che spero io possa dare mettiamola così quindi questo video era più che altro un ringraziamento agli amici della juventus club e gli amici che si aggregano che si sono aggregati e che si aggregeranno nel corso della nostra avventura un abbraccio a tutti ci vediamo nelle live del tridente e nelle mie live prossime ciao bacione